Presentazione ufficiale in piazza 24 maggio a Tonfano per il candidato del centro-sinistra alle elezioni amministrative di Pietrasanta. Sarà dunque quello di Lorenzo Borzonasca, già consigliere comunale della lista Insieme per Pietrasanta, il nome su cui hanno convertito anche il Partito Democratico e le altre liste partiti progressisti del territorio. A sottolineare l'unità delle forze di centro-sinistra sul nome del candidato sindaco, ad aprire il comizio è stata la rappresentante del PD, Claudia Dinelli, in precedenza in odor di candidatura. Un programma, quello di Borzonasca, che farà leva su tre principi cardine. Questa mattina siamo a Tonfano proprio per presentare pubblicamente la mia candidatura a sindaco di Pietrasanta con dietro una grandissima coalizione fatta di tutte le realtà di centro-sinistra presenti sul territorio. Quali sono le linee programmatiche? Stamattina verranno annunciate i tre grandi temi che saranno la base della nostra agenda politica. Partecipazione, ambiente e cultura. E proprio il tema della partecipazione è la critica principale che viene mossa verso l'amministrazione Giovannetti. Io conosco bene questa amministrazione perché è più di tre anni che sono in Consiglio Comunale all'opposizione. In primis la giunta Giovannetti non ha saputo capire quali erano le vere esigenze della città chiudendosi dentro il palazzo e cercando di gestire la città lontano dai cittadini.